non te mette fuori all'alte mette voglio fanno apposta tanto muoiono noi dobbiamo rimanere qua stiamo dentro noi noi stiamo dentro non spregami i corpi stanno tutti qua dentro lo stanno ok ho finito pure lo slime è morto sparate tutti qua ragazzi sparate tutti qua con un mazzamola qua qua casca dove sotto potrò casca e quello ancora è vivo bravissimo da qua sotto siamo 4 siamo 10 persone senza cerchino da qua a mezzo minuti sta salì qualcuno regà preparatevi quei mitraglietti e che i pompa eh c'è stanno pure qua però eccolo dicono è che testa sei fatto male? no sto contando i sassi per te quanti siamo siamo 9 aspetta 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 no tanto per star venire a ammazzare non c'è venire giù dove stai? almeno ve lo distraggo arrivo 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 ecco sta arrivando sta arrivando sta arrivando sono scese tutti quanti arrivo arrivo è sceso sto sopra qua questo uno sto sotto io sto sotto eh ci sto sopra ci sto sopra fatti io lo sparò fatti io non sparò ah eh cazzo guardo eh ho dovuto entri qua stavano che tempo che f***o che f***o che f***o che cazzo posso tutto entri là stavano no uno non l'ho visto c'era in altro qua bello adesso io vai a un momento non è via ecco arrivi da guarda ripesa la corona andò tu c'è la via cosa dei due contro uno eccolo entri i passi sto sopra di noi sto sopra di noi morto vai e andiamo bella bella bellissima bella 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 bravi anche chi l'ho avvato